Questa è una tecnica che puoi usare al lavoro ma anche in qualunque altra cosa tu faccia. Funziona in questo modo, si basa in partenza su quella che viene definita la legge di Parkinson, secondo la quale il lavoro si espande fino a occupare tutto il tempo che ci siamo date per portarlo a termine. Cosa significa? Che se ti dai due settimane per completare un progetto, presumibilmente ci metterai due settimane, ovviamente se è una timeline, una deadline realistica, ma se per completarlo ti dessi una settimana e mezza probabilmente lo finiresti in una settimana e mezza. Quando però cominci ad applicare questo principio che cosa succede? Che tendi inevitabilmente a sopravvalutare quello che puoi fare in un arco temporale relativamente piccolo e quindi poi ti stressi la vita perché non riesci effettivamente a completare la task, o meglio magari riesci a completarla nel tempo che ti sei data, quella famosa settimana e mezza, ma a costo naturalmente della tua serenità. Quindi facciamo un passo indietro e vediamo come funziona questa tecnica nella pratica cercando di non scivolare nella buccia di banana che ti ho appena descritto. Scegli una task che sai di dover portare a termine, ok? Questo è il primo passo. Datti un arco di tempo un po' più breve rispetto a quello che ti daresti normalmente per completarla. E qui c'è una trappola in cui non devi cadere. Ricordi che qualche secondo fa ti ho detto che perché funzioni in questa legge di Parkinson, la timeline che ci diamo, quindi l'arco temporale che ci diamo per completare la task, deve essere realistico. Ecco, come accennavamo prima, noi donne siamo sempre molto brave a sopravvalutare quello che possiamo fare in, non lo so, una settimana ad esempio. Molto brave anche a sottovalutare quello che possiamo fare in un arco temporale più ampio, ad esempio un mese o addirittura un anno. Poi perché questo succede? Boh, vatte la pesca. Ma per evitare questo paradosso, quindi il fatto di ridurre quella che è la nostra timeline, perché la legge di Parkinson dice che se ci diamo un pochino meno tempo per completare una cosa allora ce ne metteremo meno, ma per evitare appunto che poi per mettercene meno ci stressiamo la vita, segui attentamente questi passaggi. Quindi torniamo al passaggio numero uno. Scegli una task che sai di dover portare a termine. Passaggio numero due. Accorcia il tempo che ti dai per completarla e fin qui l'abbiamo già detto e non fa una piega. Passaggio numero tre, che è il passaggio cruciale. Aggiungi a quella data che ti sei prefissa come scadenza un tempo cuscinetto che corrisponde alla metà di quello che ti sei data per finire la task. Facciamo un esempio. Step numero uno. Decido di finire il prossimo articolo per il blog in tre ore. Ok. Step numero due. Accorcio l'arco di tempo e decido di provare a scriverlo in un'ora. Solita esagerata. Step numero tre. Cosa faccio? Proprio per compensare l'esagerazione aggiungo 30 minuti alla nuova scadenza che mi sono data, che mi sono prefissata e quindi decido che finirò il mio articolo in un'ora e mezza. Con questo piccolo ma efficace accorgimento riesci ad applicare la legge di Parkinson quindi ad investire meno tempo ed energie per fare una certa cosa senza però rischiare di darti delle scadenze impossibili e quindi scoraggiarti inutilmente. Quindi ti lascio per questa puntata di Impact Girl con una domanda a cui rispondere fra te e te con calma dopo che avrai chiuso questo video o questo audio. Qual è una cosa che sai potresti finire in meno tempo rispetto al tempo che ti sei data o che ti dai di solito? Quale nuova scadenza potresti darti una volta applicata la tecnica di Parkinson insieme al trucchetto che ti ho appena descritto? È il momento di rimboccarci le maniche e metterci al lavoro. Prima però ti ricordo che se stai ascoltando questa puntata da YouTube puoi iscriverti per ricevere subito una notifica ogni volta che esce una nuova puntata. Se stai invece ascoltando questa puntata da podcast quindi Spreaker, Spotify, iTunes o qualunque piattaforma tu preferisca, aspetto con entusiasmo una tua recensione e un tuo feedback su quanto ti sta aiutando il podcast di Impact Girl. Noi come sempre ci vediamo alla prossima puntata. Un abbraccio super Biz coccoloso. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.